In questo video ti mostrerò come in 10 minuti creare ben 100 video verticali utilizzando l'intelligenza artificiale di uno strumento fantastico che si chiama Opus Clip Di che cosa stiamo parlando? Di questo strumento che appunto da un unico contenuto video lungo anche in formato orizzontale ti tira fuori ben 10 clip virali e ora ti racconto perché virali è una parola chiave e ti permette di creare in 10 volte più rapidamente quello che devi creare è un prodotto figlio della casa di OpenAI quelli che hanno fatto dall'I2, quelli che hanno fatto chat CPT Come funziona? Molto semplice, ti sbatti fuori il video, gli metti il link e gli dici di creare le clip gratuite Ora ti faccio vedere proprio come in realtà gli puoi anche caricare un file quindi se il file non lo trovi ad esempio sul tuo canale YouTube o dove ce l'hai caricato sulla tua cartella di Google Drive e beh glielo puoi anche caricare Ora ti faccio vedere meglio Questo è un esempio Prende questo video di questa persona che sta parlando e sbam te lo crea in verticale ma non solo Numero uno l'intelligenza artificiale capisce quelli che sono i passaggi più interessanti e li sceglie Numero due li monta quindi fa tutto un editing taglio, montaggio, zoom Numero tre ti fa la traduzione e volendo ti scrive i sottotitoli scusami, al contrario ti scrive i sottotitoli e volendo ti fa anche la traduzione di quegli stessi sottotitoli non solo se vuoi ti ci metti anche i B-roll cosa sono i B-roll? I B-roll sono diciamo in questo momento l'A-roll è quello che tu stai guardando in questo momento questo video che stai guardando qui che si vede in sovraimpressione è un B-roll perché non vedi me che sto parlando ma vedi il video ok? io sono sotto quindi questo è l'A-roll questo che stai guardando questo che stai guardando in questo momento è il B-roll ecco lui te li sceglie in automatico ma ti faccio vedere è usato da 10 mili a 10 milioni di creator 3 milioni di creator in realtà va bene per gli short di Instagram di, beh buonanotte gli short di YouTube TikTok i video verticali di TikTok ecco i reel di Instagram quelli di Twitter che oggi si chiama X LinkedIn Snapchat ma anche Facebook che qui manca insomma quello che ti pare cosa ti permette di fare? ok ti dice che può analizzare in realtà non può analizza il tuo video a trovare le parti più interessanti e ti puntualizza diciamo dei 10 clip che crea o del numero di clip che crea ti dice quali sono secondo lui quelli più interessanti quali sono quelli più interessanti e te li ordina proprio per dai più interessanti ai meno interessanti ti aiuta a scrivere e trascrivere tutto quello che ti serve quindi anche di volendo di scegliere di editare quello che è l'intelligenza artificiale il lavoro dell'intelligenza artificiale ti permette di editarlo ti rendi conto che se tu non fai più niente e proprio fai come si in inglese il fine tuning proprio il pelo 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 di quelle che sono diciamo l'editing già fatto dell'intelligenza artificiale ti rendi conto di quanto tempo risparmia perché o non ci devi fare niente adesso ti farò vedere la qualità è davvero alta oppure se ci devi fare qualcosa è proprio rifiniture al pelo e vabbè ci sta ci perdi qualche minuto come ti dicevo ti permetti di fare in automatico grazie all'intelligenza artificiale il b-roll ti fa il dynamic layout cosa vuol dire che la telecamera non è fissa non ho ma ti permette di fare questa robetta tipo i zoom e altra robetta figa transizione robetta figa ti capisce questo interessante qual è lo speaker che sta parlando perché molto spesso e te lo farò vedere in un esempio che ho fatto in un video con il grande Alessandro Mazzu si è in due a parlare e l'intelligenza artificiale insomma è difficile se ti inquadra solo in un pezzo perché il video è orizzontale lui tac te lo prende in parte verticale è difficile andare a capire chi sta parlando no? è importante in realtà sarebbe importante che l'intelligenza artificiale riesca a capire chi sta parlando e mettere la telecamera su di lui nel formato verticale mettere l'inquadratura su di lui è esattamente quello che fa esattamente questa robetta qui quindi capisce chi sta parlando e te lo organizza nel piano gratuito puoi fare tutto quello che ti ho fatto vedere nel piano a pagamento c'è il lavoro per il team bello bello te lo spara sui tuoi social media sì esatto te lo spara tu gli connetti il social Instagram TikTok YouTube ok e premi il pulsante e lui te lo pubblica oppure premi un altro pulsante scegliendo la data e l'ora e lui te lo pubblica la data e allora te lo programma programmazione dei social direttamente qua dentro ok costa una manciata di euro al mese puoi esportarlo diciamo che tu non vuoi fare l'editing all'interno di quello di questa suite di Opus Clip ma vuoi andarlo ad editare in Adobe Premiere ok puoi puoi esportarlo in diversi formati non solo il formato 9 sedicesimi che è quello verticale ma anche il formato 1 a 1 formato quadrato e formato 16 noni ovvero formato orizzontale ma ti permette anche di avere più brand ovvero puoi creare personalizzare i colori e il materiale del tuo brand e andare a scegliere appunto quello che ti interessa e poi ti permette anche in futuro una funzionalità in arrivo di personalizzare i font ovvero i caratteri con cui scrivi e di personalizzare anche la musica che ne dici? di andare a vedere come funziona prima già che ci sei se ti piacciono strumenti di intelligenza artificiale di automazioni come questo iscriviti alla gratis alla nostra newsletter e ogni settimana ti mandiamo ben tre strumenti di automazione che ti aiutano a vendere di più senza stress grazie alle automazioni di business ok? ci stai è gratis è veloce fallo è gratis è veloce come quello che ti sto facendo vedere allora in questo momento mi trovo all'interno della mia dashboard in questo caso stai guardando un abbonamento a pagamento io ho comprato il pacchetto da 60 ore l'anno cosa vuol dire? come ragiona questo programma? lui ti dà dei minuti 10 minuti tu gli carichi un video da 5 minuti che lui taglierà ebbene 5 minuti li consumerà per analizzare questo video 5 minuti ti resteranno per caricargli un altro video io ho comprato 60 ore ok? ho comprato 60 ore che mi durano 12 in realtà 13 mesi perché ho preso una promo ok? ho 13 mesi di tempo per organizzare 60 ore circa 3 ore al mese più o meno ok? dipende da quello che ci puoi andare a caricare 12 ore al mese scusami 3 ore a settimana cosa ti può essere utile? sapere ci carichi qui il link nel caso del diciamo del programma della versione a pagamento non solo puoi caricare il link ma gli puoi caricare anche l'archivio direttamente il file ma gli puoi dare anche un link di Dropbox di Google Drive o di Zoom direttamente ok? questa è la prima figata della versione evidentemente a pagamento altra cosa figa qui all'interno della dashboard ti permette di vedere quelli che sono i tuoi lavori ora ti faccio vedere ti faccio vedere anche che puoi creare un tuo brand quindi posso dire all'interno della sessione layout posso specificare se voglio appunto i 9 sedicesimi i 16 noni o il formato quadrato io ho scelto i 9 sedicesimi perché mi interessa il formato verticale posso andare quindi qui chiudo posso andare a dirgli se voglio che in automatico oltre a fare la trascrizione che gli dico che è in italiano voglio uno le emoji due un intro caption ovvero voglio che all'inizio del video ci sia scritto un titolo proprio come questo qui che stai guardando un titolo quello che tu metteresti per esempio su tiktok o sui reel ecco in questo video parlo di ok tre automazioni per ecco quel titoletto lui te lo scrive in automatico e lo capisce in automatico e poi puoi in automatico appunto dirgli di fare le caption le caption le vuoi su tre righe o su una riga singola vuoi che in automatico la posizione sia scelta dall'intelligenza artificiale o specifichi tu dove vuoi in alto nel medio o nel basso puoi specificare come vuoi l'animazione delle transizioni e della scusami delle trascrizioni cara ok questa qui pop line pop scale slide left slide up ok guarda le animazioni che stai vedendo così saranno le animazioni del tuo diciamo della tua versione io ho la versione karaoke se voglio cambiarla basta che faccio così se voglio cambiarla basta che faccio così se voglio cambiarla basta che faccio così e lui in automatico te la te la andrà a creare è ovvio che alcune funzionano meglio sulla single line e altre funzionano meglio sulle tre linee io preferisco le tre linee perché è più intelligente secondo me per la leggibilità dell'utente in più puoi scrivere decidere non solo come vengono scritte ma i colori che vengono utilizzati in questo caso io utilizzo il colore del brand posso specificare il font in questo caso e posso specificare la dimensione quello che voglio ma posso specificare anche se voglio che sia tutto maiuscolo o tutto diciamo minuscolo con le iniziali maiuscole ti consiglio tutto maiuscolo perché a volte in inglese l'iniziale di ogni parola è maiuscolo e il resto della parola è minuscolo è una cosa tipica della lingua inglese ma della lingua italiana no quindi se io ti faccio vedere una cosa del genere con per esempio auto caption vedi che la di auto la c di caption placed è di la p la b di bottom sono tutte in maiuscolo ecco a me questa roba non piace quindi mi prendo direttamente tutto maiuscolo aiuta anche la leggibilità posso scegliere il colore del font il colore del contorno dell'ombra ovviamente sono tutti i colori dell'azienda posso anche in automatico quando decide di fare gli highlight ovvero le evidenziature se voglio utilizzare un colore o l'altro sempre del mio brand in più posso caricare anche un logo o uno screen cioè se voglio gli carico un png con un angolino che voglio con il logo una cosa che noi facciamo per esempio in instagram e tiktok trovi qui in alto scusami qui in basso e qui in alto anche il link se ci vuoi seguire su instagram e tiktok è una cosa che abbiamo iniziato da poco se ti va aiutaci seguici e dacci dei consigli per migliorare ok ma ti puoi far apparire quello che ti pare ecco questo fa parte della versione a pagamento in più ci sono anche altre cosette che ti possono interessare per esempio puoi creare il team puoi creare anche puoi monitorare perdonami anche quello che hai spesso diciamo consumato in termini mensili la prova di questo strumento è completamente gratuita ti ho già detto che c'è un piano completamente gratuito ti faccio vedere alcuni test che ho fatto e come ci puoi giocare testo numero uno che ho provato a fare te l'ho menzionato con questo video fatto con il grande Alessandro Mazzu registrato in streamyard registrato in streamyard cosa vuol dire che in streamyard dove eravamo tutti e due uno a fianco all'altro o c'era solo uno o solo l'altro che parlava mostravamo gli schermi insomma una situazione complessa una situazione complessa che per fare l'editing in post produzione a mano qualche minuto ti toglie vediamo come si è comportato non ti farò sentire l'audio ti farò solo sentire diciamo vedere come si è animato vedi che qui ti dà un punteggio ecco secondo lui questo è il più interessante di questo specifico filmato che durava a 16 minuti lui ha tirato giù 6 clip ok 6 clip vedi che questo punteggio di viralità è 71 mentre questo secondo lui è 90 quindi secondo lui questa clip è meglio di quell'altra ti faccio vedere ti scriva ti fa una descrizione di quello che ha catturato del perché questo punteggio ha catturato così tanto la sua attenzione e questo qui invece qui sotto è esattamente la trascrizione di quello che viene scritto all'interno diciamo trascritto all'interno del video te lo faccio partire ho messo insieme ok tolgo la voce il concetto è che vedi lui vede le animazioni questo era prima che mettessi le impostazioni personalizzate nella versione gratuita ha creato una clip di 48 secondi puoi marcarla tra i preferiti o puoi dire che non ti piace e ti fa la trascrizione guarda come ha fatto ha creato lo sfondino trasparente quando c'è la registrazione dell'intero schermo perché ha capito che stavamo facendo vedere qualche cosa sull'intero schermo dopodiché passa a solo Alessandro poi passa solo a me insomma fa delle adattamenti intelligenti in una clip che era complessa perché ribadisco eravamo tutti e due presenti sullo schermo e parlavamo cosa puoi fare la metto un attimo in pausa ti faccio vedere anche quest'altra ok vedi che eravamo tutti e due qui sposta sposta guarda te lo faccio rivedere vedi che eravamo tutti e due qui sta parlando Alessandro si sposta poi dopodiché farà un altro spostamento non mi ricordo se è su questo o un'altra clip direttamente su Alessandro insomma fa ecco qui fa dei tagli fa delle logistiche diciamo che ottimizzano il risultato finale lui ogni volta ti dice il perché secondo lui questo video è interessante o meno diciamo che noi lo vogliamo andare a scaricare pubblicare ci vogliamo fare roba ok la prima cosa che possiamo fare è nella versione a pagamento specificare dove puoi andare a pubblicarlo quando lo vai a pubblicare lui ti dà il canale evidentemente in questo caso sarebbe su YouTube se non l'hai ancora fatto ti invito ti faccio vedere pure la grafichetta ma si ti invito ad iscriverti a questo canale YouTube attivando la campanellina perché ogni settimana pubblichiamo strumenti strategie automazioni effigate come quella che stai guardando che ti aiutano a vendere di più senza stress grazie all'intelligenza artificiale e alle automazioni di business iscriviti prima della tua concorrenza e godi se questo video fa 100 iscritti ti creerò una strategia automatica per creare i tuoi contenuti pubblicarli direttamente sui tuoi canali preferiti tutto in automatico tutto grazie all'intelligenza artificiale ti stavo facendo vedere in questo caso ti fa scrivere un testo volendo puoi aggiungere una descrizione puoi metterlo pubblico privato o non in elenco nel caso specifico di YouTube lo puoi pubblicare subito pubblicare in maniera programmata e questo vale anche per TikTok sia la parte dei feed che la parte dell'inbox l'eer 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 poi puoi andarlo a esportare per Adobe Premiere come promesso lo puoi andare a scaricare e gestire come te pare e poi lo puoi andare a modificare ti faccio vedere come ultima cosa come puoi andare a modificarlo molto interessante che lui ti taglia il video secondo come taglia le parole quindi se tu vuoi fare una modifica semplicemente non è bisogno di entrare nella clip ma è bisogno di vedere semplicemente le parole in questo caso questo allora è il segmento di inizio te ne accorgi perché quando vai cliccando sulla parola ti dice start set as start imposta come inizio se io volessi far iniziare da qui ci clicco sopra e in questo caso vedi che ha cancellato le parole precedenti e sta iniziando dalla parola strumenti sbagli vuoi tornare indietro è facilissimo ci clicchi e lo metti come start ok risolto stessa cosa evidentemente lo puoi fare e cliccare come end cioè vuoi far finire dopo o prima la clip lo fai in questo modo cosa interessante puoi anche modificare la parola se scrivi una cosa sbagliata ci clicchi e qua per esempio strumento che vi sia strumento ok io torno a strumenti ma ok l'ha modificato altra cosa puoi fare sempre cliccando su una parola è eventualmente aggiungere prima o dopo una emoji diciamo questa ok l'altra cosa che puoi andare a fare è andare a colorare la parola specifica perché come vedi alcune parole sono evidenziate e puoi scegliere il colore altra cosa che puoi fare è andare a personalizzare il design esattamente come l'hai fatto in fase iniziale io ho salvato il mio preset in questo caso potrei dirgli di andare a richiamare direttamente il mio preset questo qui vedi ne hai la possibilità di salvarne cinque in questo caso io gli posso dire di applicare direttamente questo specifico del mio brand vedi che questo ti ha creato all'inizio ti ha creato il testo diciamo così di anteprima ed è quello che qui dentro ha scritto lo puoi andare a modificare guarda lo modifichiamo insieme boost your podcast game with this ok 11 tool per mettere il turbo ai tuoi podcast ok se ho scritto bene più o meno è questo qui puoi andare a personalizzare come ti dicevo non solo la parte delle caption ma anche la parte del design se vuoi andare a modificare qualche cosa specifica di queste clip puoi spostare il cursore dove preferisci per esempio qui puoi andare a eliminare puoi andare a eliminare questo specifico segmento oppure puoi andarlo a separare per andare a fare altre automazioni cosa interessante che puoi andare a fare è andare a fare il play evidentemente gestire determinate determinate realtà ma ti permette anche di scegliere il il formato che vuoi della clip ok questa cosetta qui questo pulsantino qui questo quadrato ti permette di vuoi che il documento il file video iniziale sia completamente occupi l'intero formato che abbiamo l'intero schermo vuoi che sia centrato quindi che sia adattato allo schermo per entrare perfettamente lo puoi mettere diviso nell'alto o nel basso lo puoi fare a 3 lo puoi fare a 4 e puoi fare lo screen share anche in questo caso ok evidentemente ogni clip ha delle funzioni come in questo caso ti dice che questo è fit ma lo puoi andare a spostare anche come formato a split ok evidentemente non puoi andarlo a metterlo per esempio a 3 perché siamo in 2 e quindi lui analizzando i parlanti dice ciccio mi manca il materiale ok se fossi state a 4 avessi potuto farlo anche a 4 in questo caso lo possiamo rimettere a fit per esempio fit vedi che cosa fa te lo adatta questo è un formato orizzontale te lo adatta e te lo rimette anche come sfocato sullo sfondo se invece gli avessi detto fill lui avrebbe riempito esattamente questo tutto lo schermo certo essendo una registrazione di un desk top in orizzontale non è il massimo esattamente come non è un massimo lo split perché si vede che noi parliamo ma non si capisce di che cosa sta parlando e non sarebbe lo screen share lo specifico perché in questo caso si vedrebbe Alessandro che parla ma lo schermo non si vede completo quindi probabilmente come ha scelto l'intelligenza artificiale il fill è quello più adatto ad ogni modo veloce facile gratuito perché c'è una versione gratuita a vita praticamente per poter utilizzare queste clip ogni mese hai determinati minuti da poter utilizzare io ti dico è una figata atomica se è inserito all'interno del tuo processo di creazione di video soprattutto se sei in grado di registrare lo stesso video sia in formato orizzontale che in formato verticale ti faccio fra un secondo capire come torno sullo schermo per farti vedere che io non solo l'ho testato in questo formato qui nel senso con una persona con cui stavo lavorando ma l'ho testato anche con un video fatto solo da me e con dei video verticali che gli ho già caricato questo è un video verticale che ho già caricato verticale e che lui mi ha editato fatto la trascrizione e via dicendo se vuoi scoprire come registrare in contemporanea sia il video orizzontale ad esempio per il tuo canale youtube che il video verticale ad esempio da dare in passo a dopusclip per i tuoi canali social ti lasso a questo tutorial che ti mostrerà passo passo come fare ciao 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 Grazie a tutti.